Ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Vapor e oggi siamo sempre qui su Pokémon Unite con lui, di là, di là, Glaceon, eccolo qua. È arrivato finalmente con l'evento, siamo riusciti a prenderlo, io l'ho giocato diversi giorni, l'ho provato per bene e vi posso dire che, avete visto la tier list magari, è un S+, ragazzi, è veramente forte. Un mostro, ma non è semplicissimo da giocare, infatti oggi con questo video voglio andarvi a mostrare alcune chicche che, oltre che la build, gli emblemi consigliati e quant'altro, andiamo un po' in allenamento a vedere delle piccole combo e delle attenzioni che dobbiamo prendere con Glaceon quando lo giochiamo per giocarlo al meglio. La cosa che vi chiedo è di lasciare un bel like, un commentino e passate in live che siamo tutti in live, siamo tutti in live, sì, siamo tutti in live tutte le mattine dalle 10 e mezza e la sera dalle 9 e mezza circa. Quindi passate, link in descrizione, andiamo subito a vedere intanto questo Glaceon che ho, eccolo qua, messo come preferito se si apre il menu, grazie. Allora, vediamo un po', eccolo, con che oggetti, con che oggetti, intanto li vedete subito, poi vi spiego con quali mosse. Allora, Muscle Band, Scope Lens e Buddy Barrier. Voi direte, ma come? Vapor, ma non è un attaccante speciale? Sì, infatti, vi ho detto prima gli oggetti, anche perché volevo spiegarvi questa cosa. È un attaccante speciale, come vediamo qui sopra, lungo raggio attaccante, attacco speciale, però tu ci metti la Muscle Band, ci metti il mirino, che è un oggetto che serve per critare. Sì, infatti, Glaceon ha una cosa unica nel suo genere, perché è l'unico Pokémon che è un attaccante speciale, ma con gli autoattacchi fa danno speciale, appunto. Perché tutti gli altri Pokémon, anche Gardevoir per dire, con gli autoattacchi fanno danno fisico. Adesso possiamo vedere poi la differenza tra il danno speciale e il danno fisico se facciamo un attacco e il danno è color arancione, quell'arancione, insomma, classico, è un danno fisico. Se invece è un danno sul viola, è un danno magico, quindi speciale, oppure se è un danno bianco, di colore bianco, è il danno puro, quello che non viene, insomma, ignora scudi, difese e quant'altro. Comunque, la cosa importante è capire, comunque, che questo è un Pokémon che autoattacca molto. Allora, intanto volevo precisare che non è l'unico, ma anche Upa adesso è stato modificato e anche lui fa danno speciale di autoattacco. Però scala sull'attacco, vabbè, comunque, complicata. Però sì, c'è anche Upa, sappiate. Quindi, lui, con questo set, quali mosse sono da giocare? Andiamo a vedere subito, intanto, vabbè, l'attacco base, l'abilità. Già lo lancia. Ragazzi, penso che sia una delle mosse più sbroccate di questo gioco. È veramente, veramente forte come mossa. Che scaglia in rapida successione tutti i cristalli di ghiaccio accumulati sull'avversario indicato, quindi a target. Se il Pokémon non ha accumulato cristalli di ghiaccio, li crea e infligge danni, vabbè, agli avversari nell'area dell'effetto. Ma perché questa mossa è forte? Perché, anche se noi ci allontaniamo dal target, questa mossa continuerà a seguirlo. Anche se dovesse andare lontanissimo. Poi vi farò vedere in allenamento, ma sicuramente vi sarà capitato in qualche partita. La seconda mossa è geloscheggia, perché ci potenzia gli attacchi base. E noi mettiamo la Muscle Band apposta per fare più attacchi base possibili. E anche gli attacchi base ci danno subito i ghiacciolini per poter tirare l'altra mossa. Quindi, in pratica, voi attivate geloscheggia, vi farmate i ghiacciolini intorno e poi, boom, con gelolancia sul Pokémon avversario. Ma adesso andiamo a vedere. La ulti ha pure un funzionamento un po' complicato, perché se restiamo all'interno dell'area della ulti, ci dà un cristallo di ghiaccio nel tempo. Quindi, man mano ci dà sempre più cristallo di ghiaccio. E quindi, vediamo come fare delle combo con questo. Ma prima, prima di andare in allenamento, vi faccio vedere anche il set degli emblemi. Perché lui ha un set particolare che non ho potuto fare insomma insieme agli altri. Se non avete visto i set consigliati, andate a vedere, ci sta il video sul canale. Perché appunto è un set unico, dato che è l'unico attaccante speciale che però necessita di velocità d'attacco. Quindi, eccolo qui, l'ho preparato per voi. Abbiamo cinque rune rosse, quindi emblemi rosse che ci daranno un 4% di velocità d'attacco. Ho deciso di non fare sette rune rosse, perché le trovavo comunque subottimali, secondo me. E mettere anche altre rune, altri emblemi di colore, come vediamo qua, quattro verdi. E poi abbiamo anche due bianchi, perché comunque schifo non fa. Infatti, alla fine abbiamo 150 HP più 1%. Questo certo non è il massimo, però comunque Farfetched, che usiamo per avere il secondo bianco, ci dà anche Critical Hit Rate. Quindi, come ho già detto, su Glasson è molto buono. E meno 14 di attacco, che non utilizziamo, 9% di attacco speciale più un 2% dei 4 verdi che abbiamo messo, 4% di velocità d'attacco e 1% di crit rate. Io la giocherei così, la bellissima Glasson, o il bellissimo Glasson, non lo so. Però, volendo, vi dico anche che si possono aggiungere, chiaramente, le altre due rune, gli altri due emblemi rossi che mancano e fare sette emblemi rossi per avere un pochino più di velocità d'attacco. Secondo me, meglio così, infatti ve la consiglio così, però poi voi vedete un po' come vi trovate meglio. Ma torniamo con la schermata. Andiamo qui in allenamento, perché ci sono un paio di cose, come già detto, che potrebbero essere, non subito, potrebbero essere, insomma, difficili da capire. Allora, io metto questo, vabbè, ma vi consiglierei di giocarlo con velocità X, ecco. Giochiamolo con la velocità X, va bene. Poi, purtroppo le rune mi sa che le ho tolte, quindi userò delle rune a caso. Queste mi sa che mi danno velocità d'attacco, quindi sì, usiamo queste, dai. Le avevo fatte e poi le ho tolte, anche perché non le ho tutte, quindi... Comunque non è importante, non è importante il set di rune per farvi vedere quello che fa Glasson e come lo vuole fare. La cosa importante è caricare, appunto, i ghiacciolini con la seconda mossa e poi c'è una particolarità della Unite che voglio assolutamente farvi vedere. Allora, andiamo qua, ci mettiamo... io metterei già a livello 8, perché lui prende la Unite a livello 8. Ok, perfetto, perfetto. Allora, colpo coda, gelo lancia e gelo scheggia e la Unite. Quindi, vediamo, noi non abbiamo ghiacciolini intorno adesso, facciamo l'autoattacco, vedete intanto che crittano e il nostro danno è sì viola ma anche arancione, perché? Quello è il danno della Muscle Band, ragazzi, è il danno aggiuntivo della Muscle Band, quindi possiamo vedere banalmente che ci fa fare danno aggiuntivo su ogni autoattacco. Vedete questi ghiacciolini? Io li posso lanciare premendo gelo lancia. Ora, ci sono due modi per potenziare questa mossa, il più banale ovvero ottenere più ghiacciolini, però chiaramente c'è un limite massimo di 8 se non sbaglio, infatti vediamo, in basso ci dice 8. Però se noi premiamo gelo scheggia mentre stiamo sparando i ghiacciolini, guardate che succede, eccolo qua, ne spariamo due in più. Questa è una cosa importante da fare, è una combo importante, quindi per caricare i ghiacciolini possiamo fare gelo scheggia, autoattacchiamo, facciamo così. Poi una volta che premiamo gelo lancia, vedete che ci ridà praticamente gelo scheggia e possiamo ripremerla durante l'animazione. Poi la cosa importantissima, che non è molto intuitiva con Glaceon, è la Unite. La Unite di solito, ovviamente, è tipo quella di Greninja o tante cose, la facciamo addosso agli avversari. Ecco, io vi faccio vedere il danno della Unite se la facciamo addosso a un avversario. 741 Capite che questa Unite di per sé non fa danno, quindi 741 sono veramente pochi, quindi non ha troppo senso farla addosso agli avversari. Perché noi cosa vogliamo fare? Vogliamo fare la Unite e poi premere gelo lancia, di modo che i ghiacciolini dentro la Unite ci si ricaricano all'infinito praticamente e ne spari tantissimi. Quindi non è ottimale sempre fare la Unite in avanti contro l'avversario, in alcune situazioni sì, per carità. Però magari la facciamo di lato, così. Tanto a noi basta restare dentro la nostra Unite che abbiamo veramente tantissimi ghiacciolini. Adesso io comincio da zero, ovvero da zero ghiacciolini perché non li ho caricati, ma se dovessi utilizzare la Unite con già otto ghiacciolini, vedete che sparo tantissimi proprio proiettili. Ho fatto 5190 danni, una cosa pazzesca. E non stavo neanche attaccando. Quindi se noi andiamo a caricare completamente i ghiacciolini e autoattacchiamo anche mentre li spariamo, capirete che praticamente non finiscono quasi mai. Ora togliamo, vi faccio vedere anche con i tempi di ricarica corretti. Andiamoci a caricare i ghiacciolini. Vabbè, qui ci prendiamo questo. E quindi andiamo a caricare i ghiacciolini, facciamo la nostra Unite. Gelo lancia sul target, anche geloscheggia e vedete che finché rimaniamo dentro la Unite facciamo dei danni clamorosi. Quindi l'unica cosa, l'unico tip che vi posso dare per quanto riguarda la Unite è restateci dentro ovviamente e possiamo farla addirittura lì indietro. Cioè noi possiamo tranquillamente fare una cosa del genere. Vedete, noi ci siamo allontanati tanto e siamo dentro la nostra Unite belli tranquilli a fare tanti tanti danni all'avversario. Vediamo un'altra volta magari con le stack piene. Vedete, io voglio allontanarmi perché quello magari è uno Snorlax che mi sta per saltare addosso. Perfetto, allora lo faccio qui. Vado lì. E da distanza di sicurezza gli ho scaricato qualcosa come 10.000 danni addosso o giù di lì. Veramente, veramente forte come mossa. Bisogna saperla usare. E un'altra cosa importante che vi faccio vedere adesso. Andiamo al Dread perché vi faccio vedere i danni che fa sul Dreadnought. Allora, come ho già detto, vabbè carichiamoci qui i ghiacciolini. Ci li carichiamo. E qua, Dread, eccolo. Facciamo la nostra Unite. Mezza vita al Dreadnought. Così. A gratis. Ovviamente adesso non c'è nessuno ad attaccarlo. Però, se dovessimo avere il nostro team che lo sta facendo, magari possiamo pensare di fare una Unite anche solo per velocizzare la presa dell'obiettivo. Adesso siamo al 10. Vediamo un po'. Comunque, anche se veniamo stunnati, i ghiacciolini continueranno ad andare. Addirittura qua abbiamo fatto anche tre quarti di vita. Però, beh, siamo al livello 10. Ci può stare. Ci può stare. Facciamolo resettare. Vediamo un po'. Facciamo un'altra prova. Sempre con i ghiacciolini al massimo. Andiamo, Dread. Vieni qua. Guarda qua. Eccolo qua. 70% di vita fatto con solo la Unite. E poi, magari, lo finiamo con un'altra ghiacciolancia. Veramente, veramente forte. E, ovviamente, la stessa cosa si può fare su Rotom. La stessa cosa si può fare su Zapdos. Occhio, però, perché non avete un Last Hit. Quindi non avete la possibilità di dare un ultimo colpo bello forte. Di modo che ve lo assicuriate. Quindi, fatelo solo se ci sono i vostri alleati vicini. Qualcuno, magari un Dragonite. Qualcuno che possa effettivamente lastittarlo, come si dice. Perché, se no, è facile che se fate questa combo e ci sono gli avversari, ve lo rubino. E noi non vogliamo questo. Quindi, piuttosto, usatela sugli avversari a questo punto. Comunque, questo è quanto per Glaceon. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Che vi sia stato utile. E, niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao, ciao. Ciao, ciao.